E' bene ragazzi in questo nuovo video Oggi ragazzi andremo ad aprire il meeting della collezione trading card match attacks Cosa contiene? Allora il costo è di 7,99€ e contiene 45 card più un giocatore bronzo, argento o oro In questo caso la carta è messi Vi ricordo che noi abbiamo già trovato Rushword in versione oro Quindi io spero di trovarlo in versione argenta perché dopo nel pack del collezionista Come possiamo vedere abbiamo Lewandowski in versione bronzo E io li voglio avere tutti i colori Quindi io adesso direi di salutare Quindi ragazzi salutiamo Luigi, Filippo, Pietro Sacco, Gerardo, Seren, Antonio, Gian Battista, Giuliana, Inezo Butera, Ivo, Marco Lugari Giochino Tommaso, Riccardo, Nicolas, Elio, Nargo, Diego, Cinquegrana Aurora Cassero, Nicolò, Raffaele, Salvo Juve, Brian, Rossana, Giovanni, Gianni, Gianessella Gianessella Ilias, Lorenzo, Daniel09, Gaetano, Stefano, Poca, Terra C'è ragazzi Veramente tantissimi Vi ricordo che per essere salutati dovete scrivere qua sotto nei commenti Hashtag mi saluti E poi il vostro nome Così io vi trovo più facilmente Ok Quindi Poi Questa cosa che vedete qua Che c'è Van Dick e Neymar Ci sono anche altre 4 scatoline Con altri artwork Già l'ho detto il prezzo è di 7,99€ Quindi io direi di aprirlo Andiamo ad aprire Possibilmente senza spaccarlo Ok raga Quindi l'ho aperto E così E sacchete Quindi questa scatolina la possiamo anche levare Ovviamente l'ho salvata E abbiamo il mini tin Quindi Andiamo ad aprire Ah io non voglio vedere la limited Quindi facciamo così La scatolina Io la chiudo E la metto qui In bello sfondo Così Allora Andiamo ad aprire Subito 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 Questo Ok raga Quindi iniziamo Sono 45 carte Si vede Sono veramente molto tante Molto tante Non si può dire Ok Iniziamo Abbiamo Ter Stegen E compagno portiere Di Messi Che andiamo a trovare Poi Thomas Dell'Atletico Madrid Uh Hazard Del Real Madrid Con 88 Di attacco Tanta roba Lewandowski Con 89 Di difesa Tanta roba Poi abbiamo Brandt Con 83 Di attacco Bambè Bambè Tanta roba Becker Del PSG Forsberg Del Red Bull Lipsia Tauvin Tauvin Del Marsiglia Non so Chi sei Comunque Del Borussia Poi abbiamo Bain Del Del Celtic Ok Poi abbiamo Mammana Mammana Ok Del Zenit Ok vabbè Questo qui lo sapevo Vabbè Poi abbiamo Gomez Del Liverpool Difensore Buggato Su FIFA Io Quando è Buggato Io lo dico Sempre nei video Non so perché Uh Carta Chelsea Uh Buono Bello 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 Qui abbiamo La carta del Chelsea Dove ci dice Ovviamente Tutte le cose Il capitano È Spiliqueta È Frank Lampard È L'allenatore Buono Bello 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 Jimmy Vardigo Su qui l'avrò trovato Un minimo Quattro volte Proprio di minimo Se mi è andata bene Adesso Possiamo continuare Con James Del Manchester United Poi abbiamo Felipe Dell'Atletico Madrid Isco Del Real Madrid Boateng Difensore Del Bayern Monaco Icardi Del PSG Lukman Del Red Bull Lipsia Cervi Del Benfica McGregor Del Celtic Sanson Del Marsiglia Drussi Dello Zenit All A Runder Ok L'Hunder Runder Ederson Del Liverpool Poi abbiamo Pulis Del Chelsea Praet Praet Penso sia Vabbè Del Leicester Poi Conti Del Milan Toloi Dell'Atalanta Leiva Della Lazio Il signor Bonucci Della Juventus Deron Della Atalanta Elmas Del Napoli Meret Meret Portiere Del Napoli Buono Diavera Della Roma Gagliardini Dell'Inter Ok Tutti della Serie A Poi abbiamo L'ultima carta Dopo Penso ci saranno Le speciali All Runder Ruiz Del Napoli E poi Esattamente Mi sa Abbiamo Del Celtic McGregor Che abbiamo trovato Prima in forma normale Star Player Del Celtic Abbiamo Rashford Star Player Che nello scorso video Ho trovato Gold Infatti La stessa felpa Perché lo registro dopo Poi abbiamo Rashford Star Player Ansu Fati Rising Star Del Barcellona Man of the Match Bruno Ferrandes Lui pure Molto forte Su FIFA E Uh Vinicius Junior Man of the Match Del Real Madrid Sakai Man of the Match Del Marsiglia E infine Abbiamo Pogba 100 club E con 100 Di attacco 14 milioni Tanta tanta roba Noi abbiamo trovato Van Dyck In questa forma Con 100 di difesa Allora Dopo un polmone Abbiamo finito Queste 44 card Perché dopo Ci sarà Ovviamente Il signor Messi E' arrivato il momento Di vedere Messi Sì Di vedere Messi Come l'abbiamo trovato Se l'abbiamo trovato Bronzo Argento Oppure oro Io ho avuto Sperare l'oro Perché sono mai il più figo Però Mi va bene tutto Alla fine 3 1 E invece no Prima vi dovete iscrivere Attivare le campanelline E poi lo apro L'hai fatto? Vabbè Io ci spero Quindi Adesso è arrivato Il momento Di andare a vedere Messi Nella sua forma Bronze Allora Allora Bronze mi va bene Perché già ora l'ho trovato Mi interessava vedere Come erano tutte Allora Quindi Messi Bronze E così Con 95 di attacco No No in realtà Ci sta la luce Il problema è che voi lo vedete male Io lo vedo carino Con la luce lo vedo molto carino Guardate È carino come coloro Però tipo al buio È molto bruttino Però guardate così Così diventa arancioncino Così ci sta Così ci sta Quindi Messi con 51 di difesa E 95 di attacco E poi andiamo a vedere Le sue caratteristiche Abbiamo 94 di passaggio 94 di skill 95 di tiro 67 di potenza 50 di take all E 90 di velocità Quindi raga Ho trovato Messi Bronzo E poi Nell'altro video Ho trovato anche Rashford In versione gold Io speravo Sinceramente Speravo Messi Argento Perché poi Nel pacchetto del collezionista Avrei trovato Lewandowski Bronze Così poi le avevo tutti e tre Invece adesso Mi manca solamente Uno bronzo Poi Vabbè Nel pacchetto del collezionista C'è sempre Messi Tu che ne sai Che magari lo trova argento Bello eh Vi ricordo Che qui sopra Trovate sia Il Sia Il video dove Vi faccio vedere Tutte le collezioni Trading card Con il mio special box E dove Vado a trovare Il signorino Rashford gold Eccolo qui Guardate che bello È girato Eccolo qui Hihihi E qui Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciatore Al comienzo Noi ci vediamo Un prossimo video Ciao Ciao